Il tracollo dei partiti appare inarrestabile e a parte il Partito Democratico che da anni sta scivolando lentamente ma inesorabilmente verso le sabbie mobili, l'ultima frana riguarda i berlusconiani e i leghisti, legati indissolubilmente ai due uomini che hanno dato vita ai due partiti relativi alle loro persone, Silvio Berlusconi e Umberto Bossi, accomunati da una caratteristica, la furbizia che come è noto è un sottoprodotto dell'intelligenza umana. E in virtù di questo equivoco che per anni abbiamo dovuto leggere, scritti di personaggi come Eugenio Scalfari che premettevano alle loro critiche esaltazioni di Silvio Berlusconi come un grande imprenditore invalidando praticamente i loro articoli stessi. Oppure assistere al paese che pendeva dai labbroni dell'oracolo Umberto Bossi scambiando i suoi monosillabi per Vangelo. Abbiamo visto poi che fino hanno fatto questi due personaggi. Hanno commesso tali e tanti errori che neppure un apprendista democristiano, un valletto craxiano avrebbe fatto. Dobbiamo dare però loro atto che con la sola furbizia sono riusciti a impadronirsi del paese. Hanno convinto l'elettorato raccontando menzogne e fatti inconsistenti, tutti funzionali ai loro personali interessi. Si sono fatte delle leggi talmente sfacciate che li riguardavano piazzando contemporaneamente uomini improbabili in posti di altissima responsabilità, ministri, sottosegretari. E ciò è potuto avvenire per la complicità di uno schieramento politico marcio con la complicità dei mezzi di informazione. Da pensare che buona parte della redazione del manifesto, e sto parlando del manifesto, inizialmente sosteneva Silvio Berlusconi, lo vedeva come un innovatore con le sue televisioni. Poi le televisioni hanno cominciato ad agire in modo nefasto, hanno diseducato e violentato le ultime generazioni. Gli equivoci sono finiti e così anche i partiti. Appaiono ormai come pezzi residuali. Mediaset, Lega, pezzi residuali degni di essere ospitati nel Museo degli Orrori.